E a questo punto andiamo a vedere quelle che sono le 10 regole che noi possiamo riassumere rispetto a quelle che sono tutte le regole che l'Ayurveda ci indica per una nutrizione ottimale. Allora, la prima regola è che noi dobbiamo mangiare né poco né tanto, dobbiamo mangiare secondo le proprie capacità e quindi questo è un momento che deriva anche da quella consapevolezza che vi dicevo prima che avviene durante la masticazione, quindi noi dobbiamo mangiare quello di cui abbiamo bisogno, non quello che magari la mente, la testa ci dice oppure come molti di noi sono stati educati che dobbiamo finire quello che abbiamo nel piatto, noi dobbiamo mangiare quello di cui abbiamo bisogno. Poi dobbiamo mangiare a due regolari perché la nostra digestione ha un ritmo circadiano, è un ritmo che va con la natura, non va con gli orologi, quindi noi non dobbiamo mangiare quando abbiamo tempo, dobbiamo mangiare quando il nostro sistema digestivo è più adeguato a effettuare il suo lavoro. Tradizionalmente nella nostra cultura, ma in generale un po' in tutto il mondo, ci sono due momenti, il pranzo e la cena, in cui sono i momenti ideali per mangiare, sono due momenti che sono anche distanziati perché la terza regola è proprio quella di non mangiare prima di aver digerito il pasto precedente e questo è fondamentale perché se non abbiamo digerito il pasto precedente è bene non mangiare, quindi ci vuole un tempo, quindi una regolarità fra i pasti è un elemento fondamentale. Evitare cibi e bevande fredde, cosa che noi magari d'estate facciamo, apriamo il frigorifero e prendiamo la prima cosa che c'è e beviamo direttamente le cose fredde, una cosa terribile da fare perché, come ho detto prima, la digestione è una trasformazione, è una cottura, infatti la Yurveda utilizza proprio questo termine, cottura, per cui è intuitivo che se noi su un fuoco, su qualche cosa che cuoce mettiamo una cosa fredda, lo speggiamo e quindi diminuiamo in maniera radicale quella che è la nostra capacità digestiva, quindi le cose fredde non vanno mai mangiate neanche d'estate. Fredde, non fresche o fredde. Dovevo mangiare poi in un ambiente tranquillo, abbiamo visto quanto è importante tutta la componente sensoriale nell'atto dell'alimentazione, quindi la nostra mente viene nutrita dai sensi, quindi se questi sensi sono tranquilli, sono sereni, la nostra mente sarà serena e anche la nostra digestione sarà serena. Cioè esiste una relazione strettissima fra quello che è lo stato mentale e quella che è la nostra digestione, quindi dobbiamo mangiare in un ambiente tranquillo, senza distrazione, pensare a quello che facciamo, quindi consapevolezza e attenzione al momento della nutrizione e ulteriore regola, non mangiare quindi in preda a forti emozioni, perché anche se siamo tanto felici, tanto allegri oppure tanto tristi o disperati, sono due estremi che sono nocivi per quello che riguarda una digestione e quindi una trasformazione ottimale. Dovremmo anche qui evitare i cibi conservati, a giorno d'oggi è difficile evitare i cibi conservati, però quindi cerchiamo di ridurli al minimo possibile, cerchiamo di mangiare sempre i cibi che sono adeguati alla stagione, ma soprattutto cerchiamo di ridurre i cibi che sono conservati troppo oppure che in qualche modo ci danno dei dubbi sulla modalità di conservazione. E poi un altro elemento molto importante che anche qui andremo un po' fatica è proprio quello del far sì che il pranzo sia il pasto principale. Normalmente noi a pranzo mangiamo meno, lavoriamo, oppure lo saltiamo proprio, oppure andiamo in palestra, che è la cosa peggiore in assoluto che si può fare e quando la sera torniamo a casa con la famiglia ci rilassiamo eccetera e mangiamo un sacco. Ecco, questa è una cosa molto brutta, non va bene, non va bene assolutamente perché se vogliamo avere problemi di digestione, vogliamo ingrassare, vogliamo essere gonfi, vogliamo avere problemi anche di salute negli anni, allora mangiamo tanto a cena e niente a pranzo. Se invece vogliamo avere una buona salute, mangiamo di più a pranzo e meno a cena. E questo è un altro elemento, che la cena non deve mai avere delle caratteristiche di pesantezza, deve essere sempre leggera la cena, caratterizzata da cibi leggeri e tanto più tardi si mangia la sera, tanto meno bisogna mangiare, fino a saltare proprio la cena. La cena si può saltare, il pranzo? No. Un altro elemento che è l'ultimo di questo decalogo, è un elemento molto complesso in realtà che necessita proprio di una trattazione a parte, ne parleremo, che è quella dei cibi incompatibili, cioè dobbiamo cercare di evitare i cibi incompatibili nella nostra alimentazione. Ma che cosa vuol dire incompatibili? Per la Yurveda i cibi incompatibili sono cibi che hanno delle qualità opposte, qui vi ricordate il guna di cui abbiamo parlato? Hanno i guna opposti. Questo fa sì che questi cibi con qualità opposte siano difficili da digerire, per cui ovviamente non ci uccidono se li mangiamo, se li mangiamo una volta o due volte non succede niente, per carità avremo difficoltà digestiva. Il problema è quando noi, per abitudine, mangiamo questi cibi incompatibili fra di loro sempre. Facciamo un esempio molto semplice, anche se sembra una cosa, una banalità, mangiare, non so, della verdura cruda e della verdura cotta allo stesso tempo, nello stesso momento. Verdura cruda e verdura cotta hanno due tempi diversi di digestione, due modalità di digestione, quindi ci sarà un contrasto fra i due, per cui questo contrasto poi risulterà in un ritardo, in un'alterazione di tutto lo schema digestivo e quindi in una digestione difficile. Ecco, queste qui sono delle dieci regole. Queste dieci regole, se vengono osservate insieme alla masticazione, che è assolutamente imprescindibile, faranno sì che la nostra digestione sia migliore, ottimale e quindi apre le porte ad una salute e quindi ad un'immunità poi più forte. Grazie.